Questione Arcelor Mittal con riferimento sia alle problematiche occupazionali sia con riferimento alle problematiche ambientali e poi c'è il grande problema delle ditte dell'indotto che non vengono pagate. Ne parliamo con Michele Mazzarano, consigliere regionale uscente e ricandidato alla carica di consigliere regionale con il Partito Democratico. Allora la figura, la realtà di Arcelor Mittal, tante polemiche, si tratta di dover gestire questa situazione incredibile. Una situazione che è diventata di acuta sofferenza da parte di tutti gli attori in campo perché noi siamo di fronte ad una multinazionale che ha disatteso tutti gli impegni assunti e sottoscritti. Quelli in materia occupazionale, quelli in materia di interventi e investimenti ambientali e quelli verso le imprese dell'indotto. Noi siamo di fronte ad un fallimento totale di questa strategia, ad un fallimento totale di questa multinazionale che tratta il territorio in modo assolutamente inopportuno e inaccettabile. E' arrivato il momento che lo Stato assuma delle decisioni che siano delle decisioni nette, di fatto consentendo un controllo dello Stato nella gestione dello stabilimento e rimettendo al centro di questa strategia la tutela dei lavoratori, la tutela della salute e soprattutto il risarcimento alle imprese dell'indotto. Le imprese dell'indotto che oggi stanno di fatto piangendo i mancati pagamenti dei lavori effettuati sono la spina dorsale del sistema economico tarantino. La loro sofferenza mette in sofferenza l'intera economia di questo territorio. Allora c'è bisogno nel cambio di strategia che i mancati pagamenti entrino a far parte dell'accordo per il rilancio e che lo Stato assuma direttamente l'impegno ad andare incontro alle esigenze di quei lavoratori e di quelle imprese. E soprattutto allo stabilimento si garantisca la prospettiva di una riconversione nella strategia della transizione energetica prevista dal Green New Deal dell'Unione Europea che significa ingenti investimenti e finanziamenti per trasformare gli altoforni in forni elettrici e consentire a quello stabilimento di essere compatibile con la salute dei lavoratori, la sicurezza dei lavoratori, l'ambiente circostante e la salute dei cittadini. Grazie a tutti.